L'amore che non c'è, questo è il brano che Rudy Zerbi ha deciso di assegnare a L.D.A. Al secolo Luca D'Alessio, figlio del noto Gigi D'Alessio. Una scelta che ha scatenato il caos in studio ad amici. Nel corso della puntata trasmessa domenica 31 ottobre, ma si proceda con ordine. Pronti via? L.D.A. viene chiamato ad esibirsi. Si ride e si scherza. Non conosco l'artista di questa canzone, sorride. Anna Pettinelli comincia a mugugnare. Lasciando intendere di non essere affatto d'accordo con l'idea venuta a Zerbi. Un antipasto del botta e risposta che si cons... Luca prende il microfono. Canta un'eccellente rivisitazione del brano di papà. Raccogliendo l'applauso dei presenti. Non è stato facile. È complicato. Ho il cuore a tremila. Commenta a caldo. Subito dopo la performance. Arriva il momento di Anna Pettinelli che incendia l'arena del talent show di Canale 5. Questa è un'assegnazione kamikaze. Tu una cosa devi fare nella vita. Staccarti da tuo padre. Sei estremamente educato. Al mio professore avrei detto. Ma con tutte le canzoni che ci sono proprio questa? Luca ha la risposta più che pronta pronta. Io penso che sia una genialata. Il modo più veloce per staccarmi da mio padre è questo. Ribatte compiglio. Ovazione del pubblico. Anna però non demorde e anzi rilancia. Nelle nostre orecchie. Luca. C'è la voce di tuo padre. Stavolta il pubblico mugugna. La parola passa a zero. Maria. Parlo con te. Ti piacciono i quiz? Questo è il gioco. Sai chi è il padre? La De Filippi si presta al gioco e Rudy inizia a mostrarle una serie di fotografie di figli d'arte. Vengono passati in rassegna Ricchi e Gianmarco Tognazzi. Alessandro Gasman. Cristian De Sica. Alberto Angela ed Enrique Iglesias. Messaggio più che chiaro indirizzato alla Pettinelli che non ci sta e torna a ruggire.